Un altro modo per utilizzare l'acqua del condizionatore è per stirare, per mettere nel bottiglione che poi si versa nel ferro da stiro. Io dico sempre che va di modo allo stropicciato, quindi tutto questo bisogno di stirare non c'è. Utilizzate comunque un secchio pulitissimo nuovo dove fate scorrere l'acqua del condizionatore e poi lo versate in una bottiglia di plastica. È un modo non solo per risparmiare ma per evitare di continuare a comprare bottiglioni di plastica quando invece si può fare tutto tranquillamente a costo, veramente a costo zero, in questo caso veramente a costo zero.